Ciao ragazzi io sono Falconer e oggi sono qua con l'episodio conclusivo del DLC The Ringed City di Dark Souls 3 Perché direte voi? Perché fondamentalmente l'abbiamo già finito e io non me ne ero accorto nella mia totale ignoranza di confronto di questa saga Perché pensavo che dopo aver fatto ciò che abbiamo fatto nel precedente episodio, ovvero andare alla cappella di Ariandel A riconsegnare il prezioso manufatto, dovessimo effettivamente attendere il completamento del quadro per goderci il nuovo mondo In realtà no, il DLC si conclude nel pieno della sua totale ambiguità lasciandoci come sempre con un pugno di mosche in mano Nel senso che per chi come me non trova gioia, conforto e giovamento nella lore Lore sempre con un mille virgolette intorno, il DLC lascia un profondo senso di amarezza nel cuore Che io faticherò a scrollarmi di dosso perché veramente mi aspettavo una chiusura un po' meno criptica, un po' meno metafisica Un po' più concreta e soddisfacente per tutti del tipo game over, basta, è finito Invece no, ti lasciano con questa cosa che pensi sempre che debba succedere alto ma in realtà non succede Per cui come concludiamo oggi? Concludiamo con un paio di cose per cui devo ringraziare voi Ad esempio le strade della città Daniele, adesso ci andiamo e vi faccio vedere una cosa Perché appunto volevo chiudere un po' le ultimissime cose risolte E dare un attimo di chiusura degna a questa serie sul DLC Perché praticamente vi ricordate quel muro in cui c'era scritto mostra la tua umanità E io non sapevo come fare Grazie a voi, parecchi di voi devo dire infatti Grazie a tutti quelli che l'hanno fatto notare un modo per far scendere questa scala e andare in cima Ci è come si suol dire e come si fa Allora, in sostanza Ciò che bisogna fare È andare nel pieno della palude Adesso Riusciamo a Ad eliminare il simpatico amichetto Dai Liberaci dalla tua immonda presenza Ecco, allora Una volta qui E assicuratevi che nessuno vi sia intorno Dovete attivare il giovane ramo bianco Trasformati mimetizzandoti con l'ambiente No, sono diventato una cosa che non dovevo diventare Allora, devo andare più giù Scusate Dovete mettervi proprio nel pieno della situazione E Porca miseria No, non lo divento più In pratica dovreste diventare uno spiritello Adesso a questo punto avrò preso un'immagine che starete vedendo E In qualità In forma di spirito Arrivare Praticamente Di fronte al muro Qua E una volta fatto ciò La scala scenderà in automatico Dove porta sta scala? In un posto molto interessante Perché Adesso vi faccio vedere con calma Appunto oggi vi ho detto ci sarà Che ci sarebbe stato parecchio da vedere Per concludere Ieri avevo preso tempo con Il video dedicato al patto dei lancieri Tra l'altro scusate Prima che Qualcuno ci chiami nel vivo della situazione Mi cambio un attimino Non vorrei essere evocato proprio adesso Cercando spunti Ho trovato appunto Andando avanti Ci si trova qui Allora qui Voi troverete Adesso C'è un po' di tutto qua Perché c'è un cavaliere Che insegue C'è lui Ma noi ignoriamo tutti quanti Andiamo di qua Andiamo di qua Scendiamo lungo le scale Via 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 E ci si trova qua Praticamente Non so se Se riconoscete Il punto E Di fronte a questo monumento Bellissimo monumento Rassicurantissimo Monumento della purificazione Allora qui si può Richiedere la soluzione Per Espiare i propri peccati Richiedere la dissoluzione Non sei stato Affetto Non sei sotto effetto Della maledizione Per curarsi dalle maledizioni Oppure Ripristinare il decreto Del re Che in pratica Riattiva la boss fight Quella dove c'è il lanciere Da quanto ho capito Io non ho avuto il coraggio Di farlo E praticamente Una volta fatto questo Se poi voi Lo dite al caro Lapp Che si trova In una stanza Che è Poco più avanti Adesso vi faccio vedere Anche quello Lui Ci giurerà Amicizia eterna Ovviamente Avendo già fatto Tutti i passaggi Precedenti A quello che vedete Adesso Lapp Si troverà Ma Ma finisci Io odio quelli lì Allora Eh sì Praticamente Facendo tutti i passaggi Precedenti Lapp Si trova qua Alla fine E qui Gli può essere Comunicata La presenza Di quel monumento Che teoricamente Dovrebbe fargli Tornare la memoria Ora Io adesso Non so Se effettivamente Questa cosa È riuscita o meno Perché l'app Non l'ho più trovato Da quel dì In cui gli ho comunicato Dove era Il monumento Per cui Non so Come si concluderà Questa cosa Spero di scoprirlo Prima o poi Eeeh Aia Eh vabbè Sono morto Che gioia Eeeh Ma porca miseria E praticamente Appunto Comunicando questa cosa All'app Si riesce a Chiudere Teoricamente Anche Il suo Il suo Arco Narrativo Adesso Io due cose Vorrei fare Prima di chiudere Adesso a parte Andarmi a riprendere I giocarelli miei Come si suol dire Mi rimetto Qualcosa di un po' Più adatto Ok Devo andarmi a riprendere Le anime Voglio andare a riparlare Alla Alla giovine Che sta Alla chiesa Che ci ha detto Di eliminare il drago Perché adesso Che il drago È eliminato Teoricamente Dove stanno Le mie anime Mi hanno fregato Le anime Vabbè Non le rivedrò Mai più Queste anime Mai più Nella vita Ma porca Di quella miseria E la cosa Si è complicata Un po' Rispetto a ciò Che avevo Preventivato La situazione Si è un attimino Complicata Un attimino Beh Se riesco a eliminare Questo Mi dai drago Un attimo No C'è pure quello Che lancia Le saette Da lontano Allora Ok Ma perché Ma perché Ma io mi volevo Far gli affari miei Voglio andarmi a riprendere Le anime Non so neanche dove sono Vabbè Poi ci penserò Eh Te falla finita Perché Ecco Ok Detto ciò Parliamo con lei E speriamo Ci sveli qualcosa Non c'è più Bene Sono contentissimo Eee Bene Quindi io Che poi Vedete Il problema mio Fondamentalmente È uno Che non capendoci Una mazza Della lord Di questo gioco Perché non Non mi ci sono mai Veramente avvicinato Non Ho sempre Creduto In cuor mio Che fosse una sorta Di trollata Del secolo Per cui crediamo Che ci siano cose Su cui riflettere Ma in realtà Credo non ci sia Veramente nulla Su cui Eeeh Cioè Sì Ci sono delle cose Ma Sì Sì Ci sono riuscito Pure io una volta A fa' sta cosa Che gioia È una goduria enorme Farlo fuori in quel modo Veramente Bellissima Ma se ci riprovassi Verrebbe Tira fuori la capoccia Fammelo rifare Che è una goduria Non me lo fanno rifare Dio Siete decisamente Troppi Io riporrei La mia roba Posso riavere Mamma mia Ma quanti sono Vabbè Detto ciò Io vorrei riprendere Le mie anime E tornare in un luogo Adesso devo andare A riprendere le anime Passo di qua Passo di qua Credo di sapere Dove stanno Comunque È impressionante La quantità di cose Da poter vedere In questo DLC La quantità di Di segretucci Di cose Di armi E adesso Ce n'è una Appunto Che ho Che ho trovato Nelle mie lunghe Camminate Non t'accolli Vabbè Che il banchetto A mezzo Io spero sempre Che qualcuno Mi dica cose Più soddisfacenti Rispetto alle precedenti Ma non succede mai Allora Si diceva Niente Le mie anime Sono eternamente Scomparse Non le rivedrò Mai più Sono contento Vabbè A questo punto Essendosi perse Inesorabilmente Le cose Io me ne andrei Così vi faccio vedere L'ultimissima cosa Chiudiamo con stile Questa serie Perché C'è una Una boss fight Ancora da completare Che è qua Io spero Di beccarla Alla Insomma Al primo giro Ho preso una sveglia Mai vista Vediamo Vediamo Se adesso Riesco Un attimino A sovvertire La situazione Perché è Una boss fight Piuttosto complicata Allora Partendo da Da questo Falò No vabbè Potremmo Partire Da Vabbè Uguale Surtanto È la stessa cosa Tocca andare Praticamente In un altro punto Che è Io Semplicemente Stavo In cerca Di Di spunti Che dicono No ma non può essere Che il DLC sia finito così Deve succedere ancora qualcosa Manco di niente Però 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 C'è Qualcosa da fare Ancora Perché Invece di scendere giù Se io vado di qua Cioè noi Considerate che Fino ad ora è lì Noi si Si parte da là Praticamente Per cui andando di qua C'è qualcos'altro Che è Che è Che è Proprio qua Ignoro quali siano i premi Di questa boss fight Ma Io Quasi quasi però Un abbraccio Ecco Tanto per affrontarla al meglio Sta boss fight Allora C'è Io ho cercato per te C'è 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 Shira C'è 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 Sto finendo gli Estus Che bello Io se adesso perdo ci entro la burina Al prossimo giro Ma Dai dai Ti spammo a morte Ti spammo a morte Ma porca Oh hai finito Scia la miseria Vabbè io ho un Estus Lei li ha finiti No Carissima Ok Bene Cosa ci da? Crocifisso del re pazzo Lastra di titanite Allora Vediamo un po' Eeeh Eccolo Dunque Una alabarda Una lancia a croce Da cui pende Un cadavere Deforme Nella famiglia reale Dei pigman Nacque un re pazzo Ma Shira Cavagliare di figlia Non lo abbatté La lancia di Shira Non poteva però Distruggere il re immortale Restò bloccata nel suo corpo Shira li portò Eeeh In un luogo oscuro Dove rimane Di guardia Eeeh Abilità Delito del re pazzo Sbatti a terra il cadavere Per risvegliarlo E esegui un attacco potente Per scatenare Un ruggito Una benedizione O solo Una seccatura Ma io non mi ero accorto Che ci fosse un cadavere attaccato Ma che ansia Ma dove sarebbe? Santo cielo Vediamo Non mi sembra che Che il re Abbia molta voglia Di parlare E il re Non 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 proferisce parola No Sto sbattare Sto aperto Tipo scopettone Ma non sta succedendo Granché Bene Eeeh Mi rendo conto Comunque ragazzi Che sono tipo L'antilore Per eccellenza Che tocca fa Ognuno le cose Le vive a modo suo Eeeh Detto ciò Ultimissima cosa Prima di salutarvi Eeeh Ci sarebbe da vedere L'anima del drago Intanto qua Siamo sicuri che non c'è più niente Sembra non ci sia più nulla Se solo avessi nano Eeeh Giustamente Allora Detto ciò Altare del vincolo Vi faccio vedere le armi Che si ottengono Una volta eliminato Minir Per cui Andiamo di qua Eccoci Allora Praticamente Eeeh Con l'anima di Midir Si ottiene una Questa stregoneria Attacca Con un'antica lama Di luce lunare Il ricordo Di un'antica spada Che gioceva dentro Midir Questa stregoneria Consuma anime Per dare sostanza Ricordo E attaccare con esso Ogni attacco Emette un'andata di luce Mantiene la posizione Per caricare gli attacchi Aumentando la velocità E potenza La spada Prende il nome Dalla luce lunare Ma è diversa Da quella creata Con l'anima Del palido Drago set Forse le sue radici Vanno cercate Ancora più in detto Nel tempo In un periodo Appena successivo All'inizio di tutto Oppure C'è la spada Vere e propria Che è questa Quest'arma dei draghi È il simbolo Di Midir La lama consumata Divoratore La lama La lama di ottima Adesso finalmente Usare le sue armi Usare tutte le armi Potenziale Potenziale La stagioneria Insomma C'è un sacco Da fa Tempo permettendo Detto ciò Ragazzi Io direi Che a sto punto Ci possiamo salutare qua So che è stato Un episodio Abbastanza caotico So che è stata Una serie Abbastanza inusuale Perché appunto Non essendo Un Amante O quantomeno Una persona esperta Di lore Di questo gioco Mi rendo conto Di avervi dato Una prospettiva Sul DLC Molto terra terra Però spero comunque Che vi sarei divertiti In mia compagnia Detto questo Ringrazio tutti Coloro che hanno Seguito la serie E vi do appuntamento Alla prossima Perché tanto Sebbene non si tratterà Di Dark Souls 3 Avremo sicuramente Altro Su cui affondare i denti Nei prossimi giorni Grazie a tutti